salve a tutti oggi ti faccio vedere come potete sporcare il vostro google colorati il vostro google ti faccio vedere come funziona vedete che ci sono tanti colori diversi quindi seguitemi su questa cosa e fate lo stesso andate sul vostro google allora andate sul vostro google google chrome o google si sul vostro google io vado sul google chrome e clicca cercate e cliccate holy hedge h o l i e fatelo entra e poi cliccate qua vedete queste colori cliccate vedete 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 sto sporcando tutto lo schermo vedete se vedere com'è bello o vedete com'è bello allora lo so avete un dubbio come potete pulire ti faccio sapere come potete pulire perché è il google ora è tanto sporco e poi avere un dubbio come posso pulire così allora cliccate qua e l'acqua vedete se cliccate qua e faccio il google si fa pulire tutto cliccate qui vedete vedete è pulito tutto allora la ringrazio tutti e poi ti faccio ricordare e seguitemi sul mio speedy infotex sul mio youtube channel e fate fate like lasciate un messaggio buona giornata ragazzi